Salve a tutti non so chi mi ascolterà in questa registrazione ad ogni caso voglio mettere in evidenza una cosa che mi sembra importante voglio mettere in evidenza il fatto che dio gradisce essere ascoltato dagli uomini che lui ha creato il messaggio è questo questo è il messaggio che viene dalle scritture, dalla Bibbia dalle storie che dio ha fatto sapere, dagli uomini che hanno conosciuto dio Giobbe era un uomo che temeva dio che voleva avere una buona relazione con dio Giobbe voleva avere una buona relazione con dio viene presentato, c'è proprio il libro di Giobbe, non so chi l'ha letto si capisce questa cosa, che Giobbe gradiva una buona relazione con dio ma questo Giobbe non era gradito al diavolo non era gradito al diavolo il diavolo lo accusa presso dio Giobbe viene accusato dal diavolo presso dio allora dio sceglie, permette che il diavolo lo abbia nelle mani nei limiti, nei confini stabiliti da lui e il diavolo colpisce Giobbe lo colpisce gli fa del male perché gli fa morire i figli gli fa perdere i beni e alla fine lo colpisce anche nella salute non lo fa morire semplicemente per un motivo perché dio aveva posto un limite altrimenti l'avrebbe anche fatto morire ma non ci è riuscito semplicemente per un motivo perché c'era la parola di dio che aveva posto dei limiti allora dio fa vedere che Giobbe voleva avere una buona relazione con dio l'aggradiva e dio ha utilizzato proprio il diavolo per migliorare la relazione di Giobbe verso dio era un qualcosa che Giobbe gradiva e dio lo ha esaudito perché gli ha permesso di conoscere dio in una maniera speciale da udire proprio la voce di dio nel libro di Giobbe si vede questo chi lo ha letto chi lo legge scoprirà questo vedrà questo che Giobbe era già gradito a dio e mirava di piacere a dio mirava a questo e se mirava a questo è chiaro che non piaceva al diavolo perché non dava ascolto ai suggerimenti che magari il diavolo gli diceva gli indicava delle vie diverse ma come dice la scrittura Giobbe fuggiva il male cioè non dava ascolto ai suggerimenti che gli venivano dal male non gli dava ascolto rifiutava e proprio perché rifiutava era odiato dal diavolo perché il diavolo vuole essere ascoltato il diavolo voleva essere ascoltato da Adam ed Eva e ha riflettuto e ha pensato che insomma ha preferito attaccare Eva e Eva gli ha dato ascolto e in questa maniera è entrato il male qui sulla terra allora il diavolo vuole essere ascoltato il diavolo vuole essere ascoltato vuole essere ubbidito viene detto di Caino che Caino era dal diavolo significa che Caino dava ascolto al diavolo e proprio perché dava ascolto al diavolo ha fatto quello che il diavolo voleva che facesse cioè uccidere il fratello se non erro Gesù diceva che il diavolo è omicida vuole uccidere gli uomini ma perché li vuole uccidere per quale motivo il diavolo vuole uccidere gli uomini è qualcosa che ho sentito da qualcuno e che forse ha ragione il diavolo vuole era probabilmente invidioso degli uomini dell'uomo perché Dio aveva creato l'uomo fatto l'uomo a immagine di Dio Dio aveva fatto Adam e Deva ad immagine di Dio e questa creazione fatta da Dio facendo l'uomo ad immagine di Dio probabilmente non è stata digerita dal diavolo non gli è piaciuto che Dio abbia creato un essere a immagine di Dio questa cosa non gli è piaciuta e per questo motivo che il diavolo è omicida mira a uccidere l'uomo ma torniamo al discorso di Giobbe sì nel libro di Giobbe si vede chiaramente che il diavolo ha fatto tutto il male che poteva fare a Giobbe poteva non farlo Dio soltanto gli ha dato nelle mani nei limiti stabiliti il diavolo poteva non fare niente a Giobbe se il diavolo fosse stato a favore di Giobbe non gli avrebbe tirato via i beni non gli avrebbe fatto morire i figli e non ci sarebbero state anche le malattie addosso a Giobbe questo dimostra che il diavolo vuole fare del male agli uomini vuole fare del male agli uomini questo si vede nel libro di Giobbe il diavolo vuole proprio poter fare del male agli uomini e va da Dio accusa gli uomini e Dio fa vedere che deve permettere permette anche di poter operare nei limiti che lui ritiene opportuno però mi veniva alla mente una piccola cosa che arriva Gesù e parlando con i suoi discepoli Gesù gli suggerisce come pregare gli suggerisce come pregare anzi sono i discepoli che gli dicono insegnaci a pregare e Gesù suggerisce la preghiera che è quella che molti conoscono quella del Padre Nostro che è quella di chiedere a Dio che sia fatta la volontà di Dio chiedere a Dio che sia fatta la volontà di Dio che sia santificato il nome di Dio che ci sia il regno di Dio e alla fine viene detto anche di essere liberati dal maligno però capisco questa piccola cosa io che è buono rivolgersi a Dio e chiedere a Dio che sia fatta la volontà di Dio chiedeglielo perché se viene fatta la volontà di Dio non viene fatta la volontà del maligno allora la preghiera che dovevano fare i discepoli di Gesù era questa Padre nostro Gesù allora gli dice subito una cosa voi potete pregare in questa maniera che Dio è il vostro Padre la scrittura dice ma tutti quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato il diritto di essere figli di Dio e i discepoli di Gesù avevano ricevuto Gesù e perciò avevano il diritto di essere figli di Dio e perciò potevano chiamare a Dio Padre perché avevano ricevuto Gesù Dio il Padre riconosce come figli tutti quelli che hanno ricevuto Gesù le riconosce come figli e i figli in questo caso gli viene detto di chiedere Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome sia santificato il tuo nome il diavolo ha lavorato e lavora perché il nome di Dio sia infangato e questo si vede già in Genesi che il diavolo accusa Dio presso Eva svilendo quello che Dio aveva detto e sporcando il nome di Dio dichiarando delle cose su Dio non vere non sto adesso ad analizzare che cosa chi ha interesse può andare a vedere che il diavolo non santifica Dio il nome di Dio ma lo infanga allora la prima cosa da chiedere sia santificato il tuo nome vuol dire che ce n'è bisogno vuol dire che gli uomini hanno una visione di Dio falsata falsata gli uomini hanno una visione di Dio falsata falsata mediante il maligno e molto spesso si capisce anche questa cosa che gli uomini bestemmiano il nome di Dio e gli mettono vicino dei nomi poco carini tipo come cane tipo come maiale eccetera eccetera proprio per infangare il nome di Dio invece Gesù suggeriva di chiedere a Dio che il nome di Dio sia santificato allora c'è bisogno proprio di questo lavoro qui sulla terra perché gli uomini hanno una visione di Dio sporcata infangata infangata perciò il nome di Dio è buono che sia santificato e per avere questo non possiamo farlo noi bisogna chiederlo a Lui chiedendo questo a Lui Dio ci permetterà di santificare il suo nome e poi ci viene detto di venga il tuo regno sia fatta la tua volontà e quando Dio regna c'è del bene c'è la guarigione perché quando per quel poco che Dio ha permesso che il diavolo regnasse nella vita di Giobbe gli ha portato malattia morte e miseria quando invece Dio ha iniziato come dire ad agire lui a regnare lui ha portato a Giobbe benedizione è anche vero che è sempre il regno di Dio perché Dio che ha regnato anche sopra il maligno ha permesso al maligno di operare ma Dio ha fatto ciò e l'ha fatto cooperare proprio per il bene di Giobbe però è buono che è buono Dio a regnare perché quando Dio è a regnare porta benessere quando è Dio ad agire porta benessere il maligno nel tempo che Dio gli ha dato di agire ha portato morte miseria e malattia nella vita di Giobbe ma quando Dio regna mi veniva in mente che nella vita di Salomone ha portato sapienza ed anche benedizioni materiali e quando Dio come dire ha fermato il regno del maligno nella vita di Giobbe e ha potuto regnare lui ha portato grandi benedizioni nella vita di Giobbe Giobbe ha avuto amore da parte di sua moglie ha avuto altri figli e dei beni materiali tutto questo come manifestazione della volontà di Dio allora direi che la preghiera sul Padre nostro diventa anche particolarmente importante perché se uno inizia a chiedere che sia santificato il nome di Dio vuol dire che Dio opererà e permetterà a noi di vedere il suo nome come deve essere visto secondo la verità e se lui è a regnare porta del benessere porta veramente la pace questa è la preghiera del Padre nostro Dio non vuole che noi siamo come dei pappagalli che ripetono soltanto le parole senza neanche sapere quelle che diciamo Dio Dio ci ha fatti a sua immagine ed è il diavolo che ci vuole come dei pappagalli che ci vuole limitare ma noi siamo fatti ad immagine di Dio noi siamo siamo stati fatti ad immagine di Dio gli somigliamo gli somigliamo come esseri e penso che sia importante veramente chiedere a Dio che sia santificato il suo nome perché altrimenti quello che noi vediamo di Dio è falsato è sporcato dal maligno perché in Eden noi vediamo che il maligno ha portato un'immagine di Dio falsata non vera allora forse è buono che noi chiediamo al nostro creatore e al nostro padre se abbiamo ricevuto Gesù santifica il tuo nome fa che vediamo il tuo nome così come è santo perfetto giusto benigno e ci sia la tua volontà perché ecco la tua volontà che c'è la pace vorrei far notare una cosa che l'apostolo Paolo quando ha ricevuto il regno di Dio sebbene l'avessero chiuso nella prigione lui cantava era pieno di gioia eppure era stato arrestato ingiustamente anche e cantava nella prigione se uno canta dimostra di essere libero se uno canta in verità è libero se uno canta è perché vedi Dio come amico e colui che era libero cioè il carceriere divenne libero mediante proprio si rallegrò dopo mediante la testimonianza data dall'apostolo Paolo allora è buono chiedere che venga il regno di Dio che sia fatta la volontà di Dio è buono entrare nel regno di Dio il carceriere di Filippi aveva messo in prigione l'apostolo Paolo per ordini superiori è chiaro però il carceriere di Filippi riconobbe una cosa che c'era il regno di Dio e che c'era un altro regno che si opponeva e che era contro al regno di Dio ma il carceriere di Filippi divenne libero perché accettò il regno di Dio lo accettò e si rallegrò allora vi è gioia sazietà alla presenza di Dio se Dio ci ha fatti alla sua immagine non vuole forse che noi viviamo con Lui se Lui ci ha fatti a sua immagine non ci vuole forse io vedo questa cosa in Genesi che che Dio aveva fatto la creazione aveva fatto l'uomo poi l'uomo pecca e si nasconde da Dio ma è Dio che lo va a cercare e io qui ci vedo l'amore di Dio capisco che Dio ci ama ci ha creati ci ha fatti alla sua immagine e perciò io dico che ci ama io dichiaro che ci ama ci vuole e vedo anche un'altra cosa bella ci ha creati alla sua immagine noi abbiamo peccato in Adamo ma Lui ci ha anche salvati togliendo il nostro peccato dall'avanti a Lui ce l'ha già tolto ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo ebbene il peccato non è da togliere è stato tolto da Gesù Dio ci ha riconciliati a sé e ci vuole ci desidera con sé perché siamo stati fatti alla sua immagine siamo stati creati ad immagini di Dio e se siamo stati creati ad immagini di Dio è perché Dio ci vuole non ci manda via Dio non ci manda via Gesù disse chi viene a me io non lo mando via è un'affermazione di Gesù chi viene a me io non lo caccio ebbene capisco questa cosa che siamo stati fatti ad immagine di Dio e che Dio ci vuole e qui si capisce meglio anche quella frase di Dio che dice nessuno dice dove Dio il mio creatore che nella notte concede canti di gioia carissima persona che tu mi ascolti ma se tu sei stata fatta ad immagine di Dio Dio non ti vuole e perché c'è il suo invito che dice che si lamenta degli uomini e dice nessuno dice dove Dio è il mio creatore che nella notte concede canti di gioia capisco questa cosa che che è garantito al cento per cento il canto di gioia nel momento in cui tu accetti di cercare Dio di essere con Dio perché Dio ti si manifesterà perché sei stato fatto o fatta l'immagine di Dio cioè Dio ti vuole è un invito da parte di Dio questo è un invito da parte di Dio perché vedo con chiarezza che Dio ci ama è stato Dio a cercare Adamo dopo che aveva peccato Adamo si nascondeva cioè andava in una direzione opposta questo è quello che facciamo noi essere viventi ora molto spesso andiamo in una direzione opposta da Dio ci nascondiamo ma Dio ci cerca e si lamenta di noi cioè dico questo per far comprendere che Dio è ben disposto perché è Lui che lo dichiara si lamenta di noi si lamenta di noi esseri umani fatta la sua immagine perché non diciamo dove è Dio il mio creatore non lo diciamo perché se lo dicessimo in verità ci sarebbe gioia ci sarebbe della gioia ci sarebbe il canto di gioia così come Lui ha detto e l'Apostolo Paolo siccome era entrato nel Regno di Dio aveva gioia anche quando veniva perseguitato ma la cosa preziosa che voglio che rimanga è questa il fatto che siamo stati fatti ad immagine di Dio e Dio ci vuole Dio ci desidera ma non ci violenta aspetta aspetta la nostra scelta la nostra decisione e la sua e quando uno decide passa dalla morte alla vita a un certo momento Dio disse cercatemi e vivrete perché nella verità è che senza Dio si è nella morte con Dio si è nella vita nella parabola del figlio il prodigo viene detto questo figlio era morto ed è tornato alla vita si è nella vita insieme al proprio creatore fuori del proprio creatore si è nella morte separati da Dio significa morte uniti a Dio significa vita e Dio ci ha creati a sua immagine perciò vuole che noi siamo nella vita lo vuole e penso anche questa cosa quando Dio nel giardino dell'Eden aveva creato fatto gli alberi creato gli alberi c'era anche l'albero della vita che Dio l'aveva messo al centro del giardino perciò l'uomo era destinato alla vita ma non mangiò dell'albero della vita sebbene Dio l'avesse messo al centro del giardino e dopo Dio ha impedito che venisse mangiato dell'albero della vita dopo che l'uomo aveva peccato perché altrimenti l'uomo avrebbe vissuto sempre nella condizione di peccatore ma l'albero della vita sarà mangiato dopo della risurrezione perché Dio lo ha preparato però ora vorrevo chiudere perché ho delle cose avrei delle cose da fare mettendo in evidenza il fatto che siamo stati fatti ad immagine di Dio e questo ci deve far riflettere noi siamo stati fatti ad immagine di Dio siamo stati creati ad immagine di Dio perché ponetevi questa domanda noi siamo stati creati ad immagine di Dio perché per quale motivo ponetevi questa domanda e date una risposta di vita Amen Amen Manda la tua luce e la tua verità mandale perché mi guidi no e la tua luce a a a